Si materializzò per cinque anni. Estelle Livermore è il nome di un fantasma materializzato attraverso Kate Fox, una delle tre celebri sorelle Fox che con le loro manifestazioni dettero l'avvio al moderno contatto con i piani superiori di esistenza. Estelle si materializzò per cinque anni dal 1861 al 1866 nelle riunioni a casa del marito, il banchiere americano Charles Livermore. Questi aveva perso nel 1860 la moglie Estelle che amava profondamente e un anno dopo avendo saputo dei singolari fenomeni di materializzazione ottenuti da Kate Fox, cercò di mettersi per suo mezzo in comunicazione con la trapassata. Si tennero 43 sedute prima di ottenere il successo desiderato. Infine, il 18 aprile 1861 avvenne la prima manifestazione in cui il fantasma di Estelle, esprimendosi con i raps, disse tra l'altro, Mio caro, sono qui in persona, non parlare. L'identificazione di Estelle Livermore fu immediata e completa. Il fantasma continuò ad apparire per 388 sedute.